mamma mia che partì ancora c'ho la miseria che mannaggia ciao siamo tornati siamo tornati con questo nuovo video perché ragazzi miei il Napoli ha fatto una partita di quelle esagerate perché gli si stava a mettere male alla fine gli si è messa bene ha portato a casa tre punti veramente molto importanti che li tengono saldi primi in classifica e se stasera la Juventus dovesse incappare in un pareggio o in una sconfitta non va a tirastro semplicemente a ipotizzare potrebbe prendere il primato della classifica in solitaria detto questo che partita è stata una partita un po' particolare perché la Spal passa in vantaggio con Schiattarella un minuto dopo insigne pareggia immediatamente successivamente arriva un gran bel gol Deosè e Maria Caillon che sembrava appunto ribaltare completamente la situazione è bello l'assist De Coulam capocciata gol immediato 2-1 ho detto ecco qua che il Napoli è bello che invinto vinto e invece che cosa succede? succede che Federico Viviani complice anche Reina che secondo me ha spaperellato abbastanza fa un calcio di punizione sul palo di Reina Reina rimane a guardare la palla secondo me ha sbagliato perché pensava che gli la tirava sul secondo palo quindi è rimasto un attimo non te l'ho detto così e poi era troppo tardi ma ha tirato veramente sì piazzato per carità ma una scureggetta che gli si è infioccata sotto sotto la traversa sotto l'incrocio sta riseri il polpettone quello che ve pare vabbè detto questo che cosa succede? che sul 2-2 lì per lì che cosa ho pensato? ho detto ma guarda che il Napoli pareggia e invece no ragazzi miei perché Goulam dopo aver fatto assist se inventa un gol dar nulla se infila se impertugia qua e là piazza la palla 2-3 per il Napoli io sinceramente sono contento non perché ha vinto il Napoli quanto che mi ero giocato il 2 più over del Napoli sinceramente la tifosa della Roma avrei preferito un pareggio ovviamente però ho messo un po' vaschettina e queste cose seponno fa che partita avete visto? secondo voi il Napoli ha meritato la vittoria lascerò un sondaggio in alto a destra in questo momento in cui chiederò vittoria meritata del Napoli commentate mi piace condividete iscrivetevi al canale ci vediamo più tardi con un nuovo video post partita della Juventus che gioca appunto contro il Torino derby della Mole vi saluto regancio nient'altro da tif bella